Per la prima volta alla manifestazione di Pontida, evento simbolo della Lega Nord, parteciperanno tutte le delegazioni regionali. La Campania sarà protagonista con un proprio stand e diversi eventi dedicati, tra i partecipanti il vice coordinatore regionale Mariano Falcone e la segretaria cittadina Simona Sapignoli, che ha raccontato le linee programmatiche del partito nel corso di una conferenza stampa tenutosi a Napoli. Assolutamente sì, abbiamo partecipato anche gli altri anni, dal 2014 che la Campania va a Pontida, ma quest'anno ci saremo diversamente. Ci saremo con due deputati eletti e un senatore, ci saremo con un nostro gazebo e con un nostro manifesto, con tutte le attività che abbiamo svolto negli ultimi quattro anni. Abbiamo su Napoli parecchie questioni su cui stiamo lavorando e che stiamo portando avanti. Negli ultimi dieci giorni abbiamo proposto ben cinque interrogazioni parlamentari per il vasto, per la sanità, per i ROM, per il cattivo funzionamento dell'amministrazione, sia per quanto riguarda gli enti delle municipalità che per quanto riguarda il trasporto pubblico.